Per me essere qui è un sogno, ho trovato persone fantastiche da magazzinieri, fisioterapisti, dottori, beppe, tutti quanti che a giorno d'oggi non è facile trovarle, organizzazione veramente fantastica e poi per il fatto del ruolo io sono a disposizione del mister, ovunque dovrà mettermi, ovunque vorrà schierarmi io sarò pronto. Deciderà il mister questo, io sono a sua disposizione per qualsiasi ruolo, anche un minuto, un secondo l'importante è che sia utile al mister e a tutta quanta la squadra. Questo non so dirle, però l'importante è che ora sono qui, voglio essere utile al mister, alla squadra, a tutti e devo stare soltanto zitto, correre e dare il massimo. Io ho fatto centrale a quattro, a tre, terzino anche a volte, sceglierà il mister, io devo soltanto lavorare, correre, dare sempre tutto. Mi ha fatto piacere trovarlo, perché è sicuramente un calciatore ottimo e ci darà anche lui una grandissima mano. Ho visto la partita sabato e vedo e noto che ci sono squadre ostiche, abbiamo visto il video con il mister prima della prossima partita, anche l'Aprilia è una squadra molto forte, giocatori ostici, proveremo a fare il massimo e sperando di portare a casa il massimo in solito possibile. Avevo visto qualcosa, però entrando dentro c'è un attimo rimasto così, c'era tanta tifosi, curva piena, cantavano, c'è veramente bellissimo. La strada da qua a maggio è lunga, ci saranno ostacoli, ma proveremo a fare il massimo con il mister e la squadra lavorando ogni giorno sperando di a maggio essere in un'altra categoria e non essere qui. Sono tutti quanti ottimi calciatori, poi c'è il mister e noi dobbiamo soltanto andare in campo ogni giorno, lavorare al massimo e basta. Poi il mister farà le sue scelte.